un rigore dubbio assegna i tre punti della partita al Chiaravalle che dopo essere andato in vantaggio al 27esimo del primo tempo con Maida Andrea si è vista raggiungere ai padroni di casa con un gol di Demasi Giacomo per il momentaneo pareggio al 39esimo minuto del primo tempo sarà nuovamente capitano Maida a segnare sul calcio di rigore all'ottavo del secondo tempo per atterramento in aria dello stesso giocatore questo rigore non ha convinto però la squadra del Bevongi che ha contestato la decisione del signor Costantino di Reggio Calabria grande nervosismo in campo e sugli spalti tra le opposte tifoserie che hanno richiamato l'intervento delle forze dell'ordine per riportare alla calma per il resto si è trattato di una partita spicolosa sotto tutti i punti di vista con azioni di gioco pressanti da entrambe le squadre più organizzato il Bevongi con passaggi corti e ottime impostazioni di gioco soprattutto al centrocampo il Chiaravalle ha invece preferito compiere azioni di gioco con tiri lunghi soprattutto cercando di sorprendere il giovane portiere Coniglio che si è salvato in più occasioni da registrare il pale colpito dal Bevongi con Chiodo al decimo minuto del primo tempo la partita quindi è finita 2 a 1 per il Chiaravalle e si ripete praticamente l'incontro di Chiaravalle a suo tempo vinto sempre per 2 a 1